Togli, togli, senti quelle. Mi ha fatto assai. Vado. Sono stanco. Senti, e tua moglie non è venuto? Non sei niente? No, ci siamo lasciati. Veramente? E perché? Mi tradiva. Tua moglie? Tu sei come l'ha capito? Piccoli dettagli. Sono delle piccole cose. Che ti devo dire? Parole non dette, sguardi sfuggenti, figli mulatti. Vabbè, ma il sospetto ti viene. È lì. È lì. Grazie a tutti